ciao a tutti ragazzi benvenuti face nel canale del jolly roger gaming duro face siamo qui con azza face duro gualeni il gualeni no dai siamo qui con michele azzalini e cosa hai fatto oggi michele ho giocato figurine ho fatto top 8 a un torneo di figurine eh che torneo era l'ics di bel tappeto che hai grazie molto gentile però non è giocato abc sì ho chiuso 8 2 perché variante di abc giocavi 4 non è variante è quella da duri abc face bene adesso vuoi ringraziare no ringraziamenti alla fine ringraziamenti alla fine che deve essere più trash di tutta la vita vuoi dire qualcosa prima di passare gualeni lo stracchino vai tu nel main deck ho giocato abc ho giocato 40 carte ho giocato 3a che sono prese sempre bottomless nucleo d'assalto 3b questi qui si prendono raghetto balistico questi sono standard di verna combattente ho giocato 3 gadget d'oro e 2 gadget d'oro e 2 gadget d'oro non sa più contare 2 gadget d'oro e 2 d'argento quattro matematico quattro matematico quattro matematico ragazzi momento spot pubblicitario si avete bisogno di comprare capitano si uccida ho giocato oltre gadget 3 thrusher che sono la carta più forte che non si prendono max forti face e poi è grosso quanto si fa lock con vanity con questo poi come entrapp ho giocato questo per i mirror ok spieghiamo allora essenzialmente è forte il match quando c'hai tre pezzi al cimitero e tu ne rimuovi due ma quando soltanto magari quando c'hai pezzi al cimitero ne rimuovi due e rimuove anche velo questo qui è macchina lo puoi cercare di ggx anche contro b a per esempio come dice il buon simone magari quando fa beatrice stacco ciro e manda dante e si quando stacca dante manda c principalmente è talmente forte che non l'ho mai usato in tutto il torneo anzi solo contro citro ecco e poi due max cd del king matteo vernizzi che è stato io oppio va bene poi dovrebbero essere tipo 19 mosti poi con il magia ho giocato 6 terreno che sono la carta insieme a e basta di giocarne così perché sennò sei scasso poi ho giocato le figurine forti tra i desire che secondo me sono delle carte di merda rimuovono sempre boh vanti quelle carte forti tipo boh max ragazzi un attimo aspettate mi hanno preso impreparato se vi servono delle pot of design chiedete pure due qua bellissime prezzi onesti e prezzi 70 euro poi due per 70 euro non puoi poi ho giocato rota come sercino per thrasher e tre spacchini per le settate penso non lo so non so poi c'era quasi abbiamo preferito giocare cioè ho profito giocare eclips ai kaiju perché se li peschi di tsukuyomi magari cioè non li scarti tsukuyomi come i kaiju inoltre il minor match è forte per forzarli magari vicino oppure per evitare che equipaggi di hangar e poi come cinque trappole ho giocato vanity sempre di vernizi duro fessi quella fessissima quella che fa vincere le bolle poi bottom mess di citro che devo ridargli e poi ho giocato che non ho mai tirato mai servita niente dopo te la poi ho giocato uno due e tre strike che sono la carta del metano perché non hai giocato warning perché warning potrei dire una cosa ma mi sa che dopo la tagliata e quindi non mi piaceva preferivo preferivo stracchi perché non hai giocato cosa collins intensifies ciao collins e poi ho giocato 15 carte di extra sì ho giocato una fusione no no ok tre fusioni abc drago balistico che sono forti sono il motore del mazzo e vabbè ci sapete ho giocato un guerriero best tsukuyomi che è fortissimo sai di chi è un 1.9 lo ha di di tenchi questo e sarebbe la con 1.9 un 1.8 e ma con te che hai di tenchi cretino e poi poi ti farla comunque di turno zero aspetta 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 quale cosa si dice di bugintei minchia bugintei madonna bugintei abidzef 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 ne abbiamo team golfish ragazzi ti fanno ruba ragazzi poi ho giocato ggx che è forte quando non riesce a fare come con abc magari cerchi e quando muorevo con giunghi argiana dal cimitero e adda e adda e adda la pallina con il nostro amico mazzolino che è il cancro e poi un castle non giocato due lupi non ho mai fatti due mi ha sempre servito sempre fatto quello sì che è quello super fa schifo e poi siamo arrivando al reparto le carte inutili ovvero il dweller che non ho mai fatto lo smeraldo che orribile lo smeraldo lo smeraldo corribile poi questa con cui che hai fatto che ho fatto che ho fatto in bolla e vabbè ho mispliato però vinto va bene poi ho giocato questo questo che sono forti face forti face soprattutto quando il topo paga 6.000 di gala e dogra e perde la sua poi abbiamo f0 questa carta qua non ho mai usata poi dante per cherry ma non ho beccato neanche un bene bene poi come side deck ho giocato tre come si chiama nititore fantasma e fior di ciliegio invernale fior di ciliegio invernale non ho mai tirato una share in tutto il torneo questa l'ho messa c'è c'è il motivo perché pensavo che se mio hoppon attiva hunger gliela scarto gli spacco non lo faccio cercare poi ho scoperto durante il torneo che non funzionava e poi ci ho vinto contro un minerve perché glielo ho fatto su brillante lui fa brillante scarto a mucchia va bene gente che paga 900 dopo una carta non sa giocare va bene poi ho giocato due kaiju perché boh non trovo spazio per il terzo e poi acqua fii dai poi acqua scarto c'è i macchinini di macchinini con questo qua aprono un fuoco fii che c'è esatto poi ho giocato le system down 3 face le tank system un'altra cosa ma non voglio offendere nessuno cosmic cyclone due pair che boh sono stati forti devastanti sottoconsiglio di paolo gualeni poi tre fraglas che boh anche solo per il milone sono forti e questo era il mazzo e ringraziamenti volevo ringraziare un paio di persone innanzitutto vorrei ringraziare allora il cavernicolo perché lui mi ha aiutato a testare paolo pacchiana perché mi ha aiutato a testare giovedì sera nel mal di schiena alberto ponti che è un duro face poi voglio ringraziare gualeni paolo per il supporto eccolo gualeni il cervo poi mirko zanelli per per il mazzo giustamente e luca breno per il test e tutti gli altri duri che si mi ha seguito durante il torneo una cosa sistema perciò più importante mazzolini ringraziare mazzolini che giovedì sera si è giocato il letto con vino e ha perso vino allora prima di concludere il video diciamo che possediamo un video no verrà pubblicato a pagami no se entro fine settimana dal caricamento di questo video la pagina facebook e o il canale youtube del jolly roger riceveranno duemila mi piace pubblicheremo un video dove caveman viene lavato con latte di cioccolato latte e cioccolato mentre si stanno facendo la doccia allora pezzi di merda qui mi fotto tutti eh allora questi adesso questi qua hanno capito merda perché stanotte siamo ancora qua assieme quindi io girerò per le loro cami e gli scoprerò il culo non puoi dire certe parole in tv poi vabbè allora lo tagliamo questo ok dai scherzi a parte congratulazioni per lato tocco siamo tutti contenti per per il tuo risultato grande duro face un saluto ai jolly holly jolly ma salutiamo anche i bank maker ma questo è un formato che innanzitutto a livello temporale è durato da aprile 2005 a ottobre 2005 e la banner list che c'è stata durante questo formato è stata molto particolare